Se stai avendo problemi riguardo all'aggiornamento KB5044284 oppure gli altri aggiornamenti come KB5044030 di Windows 11 24 H2 a me mi dice di installare così gli aggiornamenti, se in questo caso ricevi dei problemi riguardo all'installazione di Windows Update è possibile ripristinare Windows Update, provare ad arrestarlo e poi riattivarlo in questo caso andiamo direttamente a creare un nuovo documento di testo quindi facciamo nuovo documento di testo e andiamo così a chiamarlo 1, tanto per rinominarlo dopo entriamo così in questo documento, in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire quindi in questo caso vai a prendere netstopbits fino a netstart e fai copia e lo inserisci qua sopra una volta fatto fai file salva con nome tutti i file e scrivi qua fix.bat e lo salvi direttamente sul desktop e fai salva una volta fatto devi avviare così questo comando continuare questa operazione e facciamo sì e fai invio continuare questa operazione facciamo sì e fai invio una volta scaricate così i pacchetti necessari per fare di nuovo questo aggiornamento per installarlo sul nostro computer chiudiamo un attimo qua vai sul cmd scrivi cmd qua prompt dei comandi e segui come amministratore andiamo così a fare una scansione per rilevare se ci sono problemi quindi vai a scrivere sfc spazio slash scanno e facciamo invio file danneggiati trovati e ripristinati in questo caso ha riuscito a trovare dei file danneggiati li ha ripristinati e poi una volta fatto devi scrivere qua sopra exit ora andiamo direttamente sul nostro PowerShell Windows PowerShell e seguiamolo come amministratore e facciamo sì descrizione ti ho lasciato anche un altro comando da inserire direttamente sul PowerShell quindi addism online clean up image questo qua facciamo copia e lo inserisci qua sopra e facciamo invio operazione di ripristino riuscita quindi operazione completata quindi una volta fatto devi solamente scrivere exit e fare invio se l'errore persiste possiamo semplicemente arrangiarci con la risoluzione problemi impostazioni soluzioni problemi altri strumenti Windows update e facciamo una scansione aiutaci a capire quando e dove si verifica il problema quindi non riesco a scaricare o installare o disinstallare un aggiornamento o installare un aggiornamento ma l'aggiornamento ha causato un problema quindi uno di queste due può essere l'errore quindi non riesco a scaricare o installare o disinstallare un aggiornamento e quindi clicco qua sopra facciamo così una diagnostica automatica su windows update ovviamente se l'errore persiste puoi semplicemente eliminare i download degli aggiornamenti che hai fatto riscaricare di nuovo da capo gli aggiornamenti su windows update e poi reinstallare per questo si fa su esplora risorse questo pc visco locale c vai su windows scende fino a giù fino a trovare così la cartella software distribution download qua dentro ci sono gli aggiornamenti che hai scaricato e anche gli aggiornamenti che hai installato qua sopra puoi cancellare così questa cartella oppure tutti i file all'interno e riprovare a riscaricare gli aggiornamenti impossibile eseguire la diagnostica quindi vuoi parlare con la gente facciamo no e possiamo chiudere questa pagina se l'errore persiste possiamo scaricarli manualmente quindi vi ho lasciato così il catalogo di microsoft update quindi in questo caso tu vai a inserire l'aggiornamento che devi fare quello che sta tra parentesi ed eccolo qua versione 24 h2 per 64 sistemi basati vado su download ed ecco qua i file su .msu scarichi e installi così l'aggiornamento manualmente se non dovesse funzionare possiamo scaricare e installare gli aggiornamenti di windows 11 discaricando e installando windows 11 mantenendo i nostri file io ho fatto una guida in passato su come scaricare e installare windows 11 perché non mi dava l'aggiornamento 24 h2 dopo che l'ho scaricato da capo ho mantenuto così tutti i miei file ed eccolo qua ho fatto su verifica e mi ha trovato l'aggiornamento da fare quindi in questo caso ti consiglio anche di guardare questa guida qua devi creare il supporto di installazione ci vorrà un'ora e mezzo o due ore ma alla fine avrai risolto devi solamente mantenere tutti i tuoi file senza formattare nulla quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao